Io mi chiamo Pettinato Vincenzo, vengo da Pero, provincia di Milano, ho 70 anni, quasi 71. La clinica del dottor Palmas l'ho conosciuta su YouTube. Vedendo i filmati l'ho studiato per tre anni, tre anni prima di decidermi e ho preso questa decisione l'anno scorso, sono venuto, contento l'anno scorso, contento quest'anno. Il primo step ho fatto otto impianti e un innesto osseo perché mancava l'osso da una parte ed è andato tutto perfettamente bene. Quest'anno mi hanno fatto il nono impianto e dopodiché tutta, 28 denti, 28. Ho scelto il circonio con ceramica davanti e dietro la linea standard, mi sembra di ricordare. Perfetto, direi quasi meraviglioso. Ma io sono un carattere duro e non sorrido tanto. Quando sorrido, sorrido bocca aperta che mi fa male anche la nuca. L'unica cosa che mi lascia è che io sono di carnegione molto scura e i denti sono bianchi, me li vedo bianchi, bianchi e mi sembra strano. Ho sempre avuto denti quasi marroni e allora mi vedo un po' strano. Comunque va benissimo. Perfetto, grazie, perfetto.